Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. La motivazione di oggi ci proviene da una intervista che ho letto sul mensile Millionaire. È un'intervista all'illustratore della copertina del numero di settembre 2020 di Millionaire. Millionaire infatti ogni mese invita e in carica un differente illustratore di dare vita con la sua immaginazione all'idea che si vuole comunicare attraverso la copertina e devo dire che i risultati sono sempre molto stimolanti. In particolare aggiungo questo illustratore è veramente molto bravo. Se andate a vedere su internet i suoi lavori ve ne accorgerete immediatamente. Lui si chiama Fernando Volken Togni, è brasiliano e vive a Londra. Ecco l'intervista di Lucia Ingrosso che si trova nel numero di settembre 2020 di Millionaire e di cui ti riporto alcuni spunti, ha mostrato secondo me una personalità da parte di questo illustratore non assolutamente convenzionale e penso di poter aggiungere che le sue parole, a differenza di molte parole euforiche, motivanti di successo che si trovano spesso nelle interviste, nei video, nei profili social. Quando ti accorgi ti rendi conto che quello che viene detto non corrisponde, si capisce che non corrisponde all'autenticità dell'esperienza, alla verità della propria conoscenza, del proprio vissuto, ma che è conforme a dei cliché. Ecco le mie antenne sono sempre dritte, pronte a captare questi cliché. Ragazzini che ti parlano di successo, di fallimento, di come superare le avversità o che ti spiegano il vero successo nel marketing o gente che non sa neanche mettere insieme un soggetto e un verbo che ti vende i segreti della comunicazione persuasiva, del carisma e della leadership. Ecco in tutti quei casi mi viene sempre in mente una frase che dice Al Pacino nel bellissimo film di Brian De Palma, Carlitos Way. Devo fidarmi dei miei istinti, come quello che mi dice che quella faccia e quell'uniforme non vanno insieme. Ecco spesso quelle facce e quelle cose che ci vengono dette non vanno insieme. Nel caso invece di Fernando Volchentogni, anche se è ancora giovane senza dubbio, ecco le sue parole e la sua faccia vanno insieme. Cioè le sue parole, quello che dice e la percezione della loro autenticità sono perfettamente coerenti. Per questo te le propongo oggi. E direi anzi che le parole e l'esperienza di Fernando Volchentogni, le parole che riflettono l'esperienza del nostro protagonista valgano tanto più oggi. Tanto più oggi che sembra che tutto sia così facile e immediato. E invece ci dice, ci dicono le sue parole che quello che valeva per Napoleon Hill, quello che valeva per i grandi maestri di crescita personale del passato e per le storie di successo di allora valgono tanto più oggi. E gli schemi, le strutture, i percorsi sembrano davvero gli stessi. E soprattutto, va la pena di ricordare a tutti coloro che si illudono che oggi le cose siano più facili, scordatevi che ci siano scorciatoie. Fernando Volchentogni infatti ha avuto il coraggio di lasciare il Brasile e di avventurarsi in una città non certo facile come Londra. Gli chiede l'intervistatrice, hai anche tu lo spirito dell'imprenditore? Risponde, di sicuro ho lo spirito del combattente. Ho lasciato il Brasile per portare avanti una carriera come graphic designer e illustratore quasi dieci anni fa e continuo a credere in quello che ho fatto. Penso che non dovremmo mai abbandonare i nostri sogni. Come hai raggiunto i tuoi obiettivi? Ecco, sentite la risposta del nostro amico. Ho studiato comunicazione, ho imparato lo spagnolo, ho vissuto a Mallorca, in Sicilia ho lavorato in un albergo, ho fatto esperienza, ma il mio obiettivo era lavorare nel mondo del design, la mia passione. Così sono andato a Londra che è il posto delle opportunità e qui ho lavorato come freelance, ho iniziato a lavorare come freelance. Da tre anni concilio il lavoro in un'agenzia con la mia attività di illustratore e questi sono per me giorni felici. Hai sentito bene? Ha fatto esperienza? Ha studiato? Continua a studiare? lavora. Lavora a due lavori. Lavora in un'agenzia e lavora come illustratore. Coltiva i suoi sogni praticandoli, maturando giorno per giorno e allo stesso tempo mette la sua abilità e la sua professionalità al servizio di una azienda che gli permette guadagnare e guadagnando di poter lavorare ancora meglio sui propri progetti. Mi auguro, gli auguro, progressivamente emancipandosi sempre di più dal lavoro per terzi e maturando sempre di più la propria indipendenza. Ma sarà necessariamente così se si continua su questa strada, che è una strada molto concreta, una strada fatta di quotidianità, di lavoro, di approfondimento, di apprendimento, di maturazione e di maturazione nel senso di maturazione personale ma anche di maturazione artistica, che è fatta di pratica, conoscenza, pratica, conoscenza, pratica, esperienza. Ed è quello che consiglia di fare anche agli aspiranti illustratori. Cosa consiglieresti a un aspirante illustratore? Gli chiede Lucia Ingrosso. Creare e divulgare sempre le tue idee. Credere in ciò che fai finché non trovi qualcosa di unico. Mai smettere di fare e di esercitarti nella tua arte. E se hai un messaggio da trasmettere, meglio ancora. Renderà il mondo un posto migliore. Non bisogna mai smettere di essere creativi. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.